Ciao a tutti. Oggi vi presentiamo un tutorial su come montare e regolare un cilindro elettronico, all'avanguardia con tastiera incorporata e chiave di emergenza. Ecco cosa rende questo prodotto unico. Ha una lunghezza regolabile per adattarsi a misure da 70 a 90 mm, compatibile con tutti i tipi di cilindri europei. Ha un lettore di impronte digitali per un accesso sicuro e veloce. Generazione di codici d'accesso tramite la nostra piattaforma guestlock.it. Sono incluse tre card RFI per una comodità extra. Chiave meccanica d'emergenza per garantire l'accesso in ogni situazione. Apertura da remoto con smartphone grazie alla web app. guestlock.it. Scopri come installare e regolare questo fantastico cilindro elettronico in soli 30 secondi. Collega il cilindro elettronico all'app Ecosmart per ottenere il massimo beneficio. Connettendo il cilindro elettronico all'app Ecosmart, potrai creare codici temporanei per aprire le porte, gestire le camere occupate o libere e cancellare i codici quando necessario. Iniziamo con la schermata di richiesta delle credenziali. Per la dimostrazione, inseriamo Hotel delle Rose come nome utente e lasciamo il campo della password vuoto. Ora, ecco il planning delle camere dell'hotel che mostra le stanze occupate e quelle libere. Clicchiamo su una camera per vedere il quadro generale delle informazioni. Entrando nella singola camera, possiamo aprire la porta direttamente, generare codici temporanei o consultare lo storico delle entrate. I codici generati potranno essere inviati tramite e-mail, WhatsApp o eliminati. Quindi, creiamo un codice per una camera libera. Come esempio, dopo aver creato il codice, la camera risulta ora occupata. Vi mostro nuovamente come aprire la porta da remoto. E come controllare il registro delle aperture. Torniamo al planning delle camere, dove vediamo le stanze occupate e quelle libere. Infine, il planning ci mostra lo stato di carica delle batterie e delle serrature. E ricordate, con il nostro sistema di domotica, è semplice come un clic.